Ciao a tutti, qua Raoul, qua a destra vedete il prezzo dell'upgrade che ricordo che è solo per chi ha la copia digitale del gioco, perciò per chi ha il disco, già fatto questo è il terzo video in totale che faccio sulle Harry Potter e Remastered, comunque per chi ha solo il disco, questo è il disco, il gioco costa 40 euro, ora per chi ha il disco preso nel 2016 o nel 2016 o nel 2016, poi arrivato nel 2017 o nel 2018 anche su Xbox, comunque ho fatto già due video riguardo per il fatto upgrade, comunque questo è il disco, la cosa che cambia è che chi ha il disco è costretto a prendere le versioni come Prova Slash in quanto se hai la, vabbè qua un po' diversa, comunque stessa cosa nel senso che Warner Bros. ha rifatto la stessa roba che ha fatto con questo, che ha fatto con questo, ovvero chi ha il gioco in disco standard, beh qua non c'è standard deus propri di, chi ha il disco deve riprendersi nella versione per next gen, che comunque è un po' strana, comunque vabbè, ora qua 20 euro, ho già detto riguardo il fatto che l'ho preso tra i 10 e i 30, ci ho cercato, 20 euro sono buoni, in senso metà prezzo, comunque vabbè, io comunque perciò per me sarebbe in totale 26, in quanto ho preso, ho fatto un video, guarda se era la promo a 6 euro per la sua Play 4 digitale, perciò vi consiglio di trovare una promo da uno sconto qualche parte, meno su console, da uno sconto del gioco originale, cioè dell'election per Play 4 o Xbox One, e dopodiché fare l'upgrade, ora l'upgrade io spero sia per chiunque, e non sia una furbata di tipo, se il gioco l'ho comprato prima di tot data, perché fu proprio la del genere rodo che esisteva, non so, niente, qua lì, a pensare a EA, credo, rodo che cos'era, ha fatto a sta rodo, sarà una cosa che l'upgrade c'era entro un tot di scadenza, io spero che il genere non esista più, non so, guarda, io, l'upgrade ho fatto, finora, erano soltanto per delasos parte 2, remaster da 4 a 5, quanto a Apple Watch, attualmente come prezzo l'upgrade è nella media, nel senso, è il primo a 20 euro, finora sono stati gratis, gratuiti, 10 euro o 30, ovvero 10 euro tra remastered della Sony, da Playstation, quello più costoso della Play sono quelli di Ghost of Tsushima e di Death Stranding, che sono entrambi 30 euro di upgrade, se ando male, vado a memoria, comunque, vado perché sia Death Stranding che Ghost of Tsushima hanno giocati in remastered, cioè ho già super fatto, però Ghost of Tsushima l'ho fatto, da, con l'avvento APS Plus, Extra, Barra Premium, queste remaster sono incluse, comunque, ho giocato, ho conosciuto i concerti, i remastered, il contatto, ora, lo prendo e gioco per 20 euro, penso che sia a fine di Harry Potter, Harry Potter ha giocato talmente volte, l'ho dovuto ovunque, perciò, la risposta è, in generale è un sì, lo prendo ora, probabilmente sì, anche perché non c'è niente da giocare, attualmente, ma anche perché da qua, fino a, fino a ottobre, cioè, in breve, con rinvii di cose, o cose cui mi interessano, che comunque escono nel prossimo anno, qualcosa è a passare il tempo, comunque, mi invento qualcosa. Comunque, il prezzo è a posto, il fatto che non c'è un upgrade dal disco, è un peccato, però, comunque, non è qua, voglio mostrarvi il fatto del post di Twitter, Barra X, che ho fatto, questo è, è il più più recente, ho fatto anche un altro video sulle Harry Potter, non ricordo se ho fatto qualche, ecco, comunque, trovate vari giochi di video sul canale, comunque, visto, Harry Potter Collection, eccetera, qua, bla, Harry Potter, comunque, se, e qua, chiudo, se, faccio, qualche tipo, di, di live, o, comunque, gameplay sul gioco, quello qua, ho fatto, tempo fa, tanto, fa il tempo, eh, lo faccio con anni 5-7, perciò, se, prendo il gioco, cosa che penso di fare, ma, non so se, a breve, senso, dopo sta live, stesso video, o, comunque, perché, in persona, posso, però, soltanto, che, nell'occhio di dire, ok, non so, che, figura, c'è, ora, beh, ora, il prezzo, per qualcuno, ma, risa, un po', un po' alto, non rende molto, perché, mari uno è abituato a vedere l'upgrade a massimo di 10 e comunque dimentiamo su pc su steam ora per chi ora il prezzo 40 euro però su steam non so se non so se sarà disponibile controllo comunque su su steam ora l'ho letto per chi l'ha già giocato su console 4 xbox one non consiglio ad allo sconto attivo perché no se mi interessa su pc la cosa è un sito tale perché è la prima volta non mi viene il cross perchè non salta fuori la pagina c'è ok troppata ma ok per un atto mi ha dato errore per un secondo mi ha dato errore ora apparsa sul pc purtroppo deve aspettare le 17 minimo o anche già oggi 18 7 18 ovunque alle 18 pomeriggio o alle 7 di sera il gioco su pc ora ripeto su pc il prezzo li vale sono due giorni ottimi giochi vi durerà un bel po un bel po di ore ora lino osa ripeto per completismo importa un po la persona poi raggolette però se il ora supple 5 dovrebbe avere la funzione del dual sense qua in alto c'è scritto funzione di vibrazione supportata dual sense perciò voglio capire che tipo di cosa c'è ora la parte voglio anche vedere un po il tipo di ora qua in fondo se tu possiedi cose in digitale hai uno sconto comunque il fatto che fino a poi mi fa non c'era nulla il fatto che se la cosa che è preoccupante del motivo per cui vabbè è una rimastra una rimastra il plus comunque il fatto che il questa questo estremato è stata annunciata il mio discorso se sbaglio mi sei facciamo un picco 3 e sembrano ah sì il gioco uscirà il l'otto di ottobre va bene qual è il prezzo nessuno nulla il fatto che fino a quando non a poco fa non c'è una parte in negozio pesi in coro anche amazon e quant'altro se sono andate che sono non il motivo per cui si viva questa cosa fa non è tanto per a parte mi interessa che in gioco mi interessa per il fatto che nessuna parte solo ne parla vabbè è un'altra è un'altra rimastra è già presente è una versione next gen però il fatto che non c'è info da nessuna parte riguardo la cosa è un po strana comunque ho fatto un video precedente che in cui qua vi mostro anche chi sviluppa chi ha fatto il porting e quant'altro comunque in breve hanno unito i trofei di 1 a 4 1 5 5 7 insieme dicendo per il prezzo che cosa sono inizi e perciò punto stop su pc lo sconto è di due tipi se uno ha il a 14 o 57 hai un tot di sconto se hai entrambi i giochi originali su pc lo sconto è completo perciò immagino che quanto tale sono 50 sono 20 euro di upgrade barra sconto perciò immagino che ogni gioco sia tipo ogni ogni buon gioco sia 10 euro di sconto suppongo ora è chiaramente chiudo non so se è possibile forse con qualche un'ora pre forse è possibile non lo so comunque ora se qualcuno riesce ora in questo non so se se uno che modo riesce per una chi della la vecchia versione in camera si può usarlo no perché nel senso sono bene sono di chi uno magari le riscatta a poi rosa e spende di meno e che sembra che comodo se sarebbe senso fra cose varie fra green man gaming instant eccetera ora se c'è modo di farlo si bene senso vabbè sono chi non scadono però nel senso non so se sono le riscatto dopo l'uscita su su steam c'è qualche tipo di differenza io perché io sono realmente rarie volte soltanto per volte ho preso due o tre giochi lega perché stavano appogliosi e e poi su fanatical che c'era e dombrale con i vecchi punto stop c'è finché io le chi dipende soltanto quando realmente non bisogna c'è molto raramente 4 6 volte apprezzi i risorti da ma neanche un caffè più o meno per dire se uno vuoi provare a vedere di poter risparmiare con le chi perciò spendere pochi euro per la chi e usare lo sconto su pc può farlo provate se funziona dovrebbe funzionare però è una mia ipotesi non dico di farlo se lo fate e poi non sconto non c'è prima di vai sono per i vostri dovrebbe funzionare però se così è una cosa più strana però comunque veramente che lo fa alla prossima e ciao 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 ciao